Bentornati alla sesta lezione del nostro corso Bitcoin e Blockchain Technology, riepiloghiamo il percorso che abbiamo fatto finora. Allora, siamo partiti con una lezione introduttiva di ampio respiro, per certi aspetti provocatoria ma si spera stimolante, dove ovviamente però molte delle affermazioni che pur ho tentato di inserire in un quadro argomentativo strettamente stringente, dovevano essere accettate in maniera un po' fiduciale dal punto di vista della sostanza o della robustezza tecnica su cui erano basate. Le quattro lezioni successive sono state quattro lezioni invece estrettamente a contenuto tecnico. abbiamo avuto una seconda lezione che si è focalizzata su hash function, firma digitale, critografia delle curve ellittiche, cioè sostanzialmente tutta un po' la critografia che serve per comprendere l'ecosistema Bitcoin. Nella lezione successiva abbiamo familiarizzato con la struttura dati blockchain e la struttura dati Merkle Tree per costruire sostanzialmente in maniera un po' giocosa e molto naif una criptovaluta con gli ingredienti che avevamo fino a quel momento, la criptografia e la struttura dati blockchain e Merkle Tree, definendo intuitivamente o in maniera abbastanza semplificata che cosa potessero essere le transazioni. Il cuore della terza lezione è stato però in particolare capire che cosa vuol dire raggiungere il consenso distribuito, perché questo è così rilevante e perché questo è quindi un punto cruciale del disegno di Satoshi Nakamoto. Nella lezione successiva ci siamo focalizzati sulle transazioni. Abbiamo visto cos'è un transaction input e cos'è un transaction output, abbiamo capito quindi che le transazioni Bitcoin sono sostanzialmente la distruzione di coin, banconote esistenti a vantaggio della creazione di coin, di banconote nuove. E abbiamo analizzato nel dettaglio i principali tipi di transazione e gettato uno sguardo su che cosa potrebbe essere il futuro di queste transazioni, nel senso di Segregate Winness e un rapido accenno all'Alien Network. La scorsa lezione abbiamo invece guardato un po' di più a Bitcoin Core, quindi riprendendo il tema del consenso abbiamo guardato a quella che è l'implementazione di riferimento del protocollo Bitcoin e in qualche modo gettato uno sguardo critico e si spera illuminante su quelle che sono le dinamiche tra utenti, minatori, industria, core developer. Concludendo la lezione con un drill down, un approfondimento su un particolare tipo di attore che è l'exchange, dove possiamo oggi acquistare Bitcoin in cambio di euro di dollari e quindi poi su quelli che sono i wallet software provider, quindi gli strumenti software che abbiamo per poter gestire in sicurezza i nostri Bitcoin. Ed in particolare l'ultimo guizzo della scorsa lezione è tornato a essere tecnico, estremamente tecnico, quando abbiamo visto che cosa vuol dire avere una sequenza deterministica di coppie chiave pubblica e chiave privata e in particolare una hierarchically deterministic sequence. Quindi il modo più moderno ed se vogliamo anche intelligente di usare Bitcoin, che consiste nell'usare una diversa coppia chiave pubblica e chiave privata per ogni transazione, senza che però l'housekeeping, il tenere traccia, il conservare le chiavi private diventi particolarmente problematico per l'utente, perché è sostanzialmente sintetizzato dal backup, dalla conservazione sicura di una master private key. Complicate quindi queste quattro lezioni tecniche in cui abbiamo messo le fondamenta per poter riprendere il discorso della prima lezione, quindi un discorso se vogliamo da un certo punto di vista didattico, divulgativo, ma non strettamente tecnico-tecnologico, questa volta però con una maggiore consapevolezza tecnica. E lo scopo della lezione odierna sarà quello di concentrarsi sugli aspetti monetari che Bitcoin ha, dell'impatto di Bitcoin nella storia della moneta, per poi concludere settimana prossima con una lezione sulle applicazioni non monetarie della blockchain, quindi smart contract, scusate, notarizzazione in primis, smart contract e magari un accenno alle cosiddette initial coin offering. Ma allora la lezione odierna, cryptocurrency frontier in commodity monetary standard. Qual è la frontiera delle criptovalute per quello che riguarda uno standard monetario tipico delle commodity, delle materie prime? Quello che è stato un po' l'oro, ma nella storia della moneta, il che oggi potrebbe essere Bitcoin. In particolare quindi affronteremo una breve e veloce ripresa di alcuni punti qualificanti di cos'è Bitcoin, per poi parlare di cos'è moneta e oro, quindi chiarirci un attimo su questi temi, e poi affrontare il vero e proprio cuore della lezione. Quindi IEC money, cioè sostanzialmente la possibilità di ingegnerizzare criptovalute con politica monetaria elastica ma non discrezionale, e concludere con le recenti più avanzate idee per quello che riguarda dual asset ledger e reserve asset bank, cioè come è possibile usare Bitcoin come asset di riserva in uno schema, in un ledger, che abbia due asset, un coin stabile e una share, un'azione speculativa. Ma allora partiamo con Bitcoin. Ci siamo già detti che nell'economia dell'informazione globale abbiamo visto la posta diventare elettronica, abbiamo visto Wikipedia sostituire l'enciclopedia britannica, abbiamo visto la nostra musica, i nostri film diventare liquidi sotto le forme di Spotify, Netflix ed altro. Beh, c'è l'aspettativa, a torto o a ragione, che un intero sistema finanziario e bancario entri nei nostri smartphone. E Bitcoin con la sua blockchain è in pole position. Se infatti noi riflettiamo che oggi trasmettiamo dati con costo marginale nullo, io posso facilmente trasmettervi il filmino della festa di compleanno di mia figlia, diversi megabyte senza sostanzialmente alcun costo aggiuntivo significativo per me. Se volessi trasferirvi i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza, lo devo fare dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì e tendenzialmente pagando una commissione con magari due giorni affinché i soldi arrivino a voi. È chiaro che tra dieci anni guardando indietro, questo stato delle cose sembrerà quantomeno bizzarro in un mondo in cui appunto quantità gigantesche di dati vengono trasferiti senza costi marginali, che per trasferire i pochi kilobyte della mia ricchezza sia sottoposto a questo sistema di balselli e di inefficienza tecnologica. È quantomeno paradossale. E quindi la domanda è chi e quando, guardate, non se qualcuno regalerà all'umanità una rete di pagamento peer-to-peer sostanzialmente gratuita, istantanea e globale. E Bitcoin è in pole position. Perché? Perché Bitcoin è una cryptocurrency decentralizzata, non sponsorizzata da governi e organizzazioni, che permette transazioni istantanee peer-to-peer, non ha bisogno di una terza parte fiduciaria, si basa su sicurezza criptografica, ha un sistema di incentivi economici strettamente, straordinariamente sinergici e rappresenta low-cost banking molto efficiente per tutti, ovunque. Ma in particolare abbiamo detto che abbiamo spiegato alcune delle caratteristiche di Bitcoin e decentralizzato vuol dire che non ha nessuna authority centrale e non ha, evidentemente, intermediari. Permissionless, non ha bisogno di un regolatore, anzi non vuole un regolatore, non chiede il permesso a un regolatore. È resistente alla censura, è impossibile confiscare fondi Bitcoin. È ad accesso aperto, senza discriminazioni, senza limiti di amount, è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. È un sistema sostanzialmente gratuito, abbiamo visto che le fee sono aumentate significativamente, ma restano assolutamente trascurabili. Se interpretiamo correttamente il network come un network di real-time gross settlement, cioè di, sostanzialmente, settlement di finalizzazione di transazioni economicamente significative. Non usate o non pensate di usare Bitcoin per pagare il cappuccino al bar. non conosce confini, non ha limiti geografici, è trasnazionale, nessuna giurisdizione in particolare stringe Bitcoin. È sicuro, non falsificabile, le transazioni sono non ripudiabili, non potete dire di non aver effettuato una transazione che avete firmato digitalmente, non potete ritirarla. È un sistema resiliente, nulla è stato in grado di fermarlo o romperlo, almeno finora. Abbiamo visto transazioni economicamente straordinariamente significative, questa è una transazione che all'epoca valeva 83 milioni di dollari, nel dicembre 2014, transata sostanzialmente con 4 centesimi di fee. E abbiamo visto, fra l'altro, proprio nelle settimane di questo corso, che l'interesse del mercato per Bitcoin è schizzato alle stelle. Siamo partiti, non so se avete fatto caso, durante il nostro corso che Bitcoin quotava circa 1.300 dollari, oggi ne quota 3.000, proprio ieri ha stabilito il nuovo record. Si vede che questo corso porta fortuna a Bitcoin, io spero che voi ne abbiate acquistati. E soprattutto la salita delle quotazioni di Bitcoin fa sì che se moltiplichiamo 3.000 dollari per i circa 16 milioni e mezzo di Bitcoin al momento in circolazione otteniamo quasi 50 miliardi di dollari di Bitcoin in circolazione. Una cifra che incomincia a essere significativa se teniamo conto che la massa monetaria M0 in dollari, cioè i contanti in dollari, le monete e le banconote, negli ultimi 60 anni è stata in media circa 680 miliardi. Quindi ci avviciniamo a un decimo della massa monetaria M0 del dollaro statunitense. Abbiamo nelle 4 lezioni tecniche, ma anche nella lezione introduttiva, chiarito chi sono i minatori e cos'è il mining, cioè i nodi del network che danno la potenza computazionale necessaria per processare e validare le transazioni, ma soprattutto in qualche modo per evitare il double spending, quindi per sincronizzare i nodi e mettere in sicurezza il network, i miner competono fra di loro per validare un blocco di transazioni, il vincitore, colui che per primo dà prova del lavoro, la proof of work del lavoro effettuato, viene ricompensato con l'emissione di nuovi Bitcoin. E qui già vediamo che tocchiamo tremi monetari, perché le rendite di signoraggio, cioè quella straordinaria fonte di ricchezza che deriva dal differenziale tra il costo di produzione della moneta e il valore della moneta sul mercato, viene sostanzialmente nel network Bitcoin socializzato per coprire i costi della rete medesima. Allora in questo grafico che purtroppo per pigrizza non ho più aggiornato e che quindi va fino a febbraio 2015, vedete in media quali sono le rendite di signoraggio che hanno coperto i costi del network. Ma se facciamo un rapido aggiornamento a ieri sera, vale sempre ovviamente 144 blocchi al giorno, 365 giorni l'anno, in questa fase sappiamo che la remunerazione del blocco è 12,5 Bitcoin, 3.000 euro per Bitcoin, beh parliamo di circa 2 miliardi di dollari, i nuovi Bitcoin emessi ogni anno che sono sostanzialmente l'incentivo economico che copre i costi del network. Quindi come vedete cifre tutto sommato abbastanza significative. Ma di questa politica monetaria in cui le rendite di signoraggio coprono i costi della rete in realtà quello che ci interessa di più, quello che per noi è più significativo, perlomeno in questa lezione, è questo grafico, la politica monetaria di Bitcoin. L'offerta di Bitcoin è perfettamente inelastica, è determinata, non si adatta alla domanda e cresce a una velocità che però diminuisce sempre più nel tempo fino ad arrestarsi completamente circa intorno al 2140. Allora abbiamo già visto che coloro che validano la rete sono chiamati minatori, abbiamo visto che l'offerta monetaria è inelastica, beh sostanzialmente noi possiamo capire che ciò che rende Bitcoin speciale non è soltanto il fatto di essere un asset digitale e quindi scritturale, che esiste solo come transazione validata, ma è soprattutto il fatto di essere un asset, non una liability. Bitcoin non promette a nessuno niente, tranne che di essere Bitcoin, non è un impegno, è uno strumento al portatore, sappiamo che se perdiamo le nostre chiavi private nessuno ci restituisce i nostri Bitcoin, ma soprattutto Bitcoin è scarso in ambito digitale, come nulla prima di lui. A questo punto può essere si trasferito, ma non duplicato, può essere speso ma non doppio speso, mima insomma la politica monetaria dell'oro, un bene scarso trasferibile ma non duplicabile. Bitcoin è insomma oro digitale, questa è l'invenzione brillante e straordinaria di Satoshi Nakamoto. Ma abbiamo parlato di moneta, abbiamo parlato di oro, forse vale la pena cercare di in qualche modo chiarire alcuni di questi termini per evitare confusioni improprie. Abbiamo già raccontato, ma lo riracconto oggi, che la moneta è uno strumento di relazione sociale. Noi tutti veniamo al mondo in quella che può essere chiamata l'economia del dono. Si spera per voi che nessuno di voi abbia dovuto pagare per le cure parentali che ha ricevuto, d'altronde pagare per le cure parentali sicuramente provocherebbe dei danni psicologici piuttosto consistenti e significativi all'individuo. Insomma i nostri genitori ci hanno allevato sostanzialmente gratis, per amore. Beh parliamo di economia del dono perché in realtà nel fare quell'attività i genitori ne traggono un beneficio, un beneficio affettivo, se non addirittura come in epoche passate, magari anche un beneficio economico, si parla di proletariato, proprio quando i figli erano la potenzialità di una forza lavoro. Ma in qualche modo neanche allora, neanche in epoche di vero e proprio proletariato, il fatto che i figli potessero essere una risorsa economica cancellava la dinamica naturale, antropologica per cui noi siamo contenti di fare del bene alle persone che amiamo. Questa dinamica del dono tipicamente si allarga ai vicini, agli amici, alla famiglia estesa, al vicino di Pianerottolo, alla tribù, fino a raggiungere tipicamente un limite che quando incontriamo persone che non conosciamo e di cui quindi in qualche modo non ci fidiamo, ma in un'economia transazionale nasce l'esigenza di cooperare con queste persone. Ecco che allora magari vi avranno raccontato della cosiddetta storiella del baratto. Il baratto è una narrativa straordinaria, molto simpatica, sebbene non c'è nessuna evidenza antropologica di società che abbiano usato il baratto in maniera significativa. Il baratto è io do oggi le mie uova a te e tu mi dai il tuo latte. Peccato che se io oggi non voglio il tuo latte ho un problema, perché fatico a differire il ricepimento del latte nel tempo, oppure potrei volerlo domani o potrei volere qualcos'altro. Quindi il baratto è straordinariamente efficiente. Ecco che l'uomo inventa la moneta come mezzo di scambio. Allora io dico spesso la moneta non sarà la storia, non sarà la musica, non sarà l'arte, non sarà la matematica, non sarà la letteratura, ma sicuramente la moneta è una straordinaria invenzione del genio umano che non ha confronti nel modo di relazionarsi di altri esseri viventi sulla faccia della terra in cui un asset sintetico che non esiste, che non esisteva prima, viene sostanzialmente inventato per consentirci di cooperare con coloro di cui non ci fidiamo. Se pensiamo da questo punto di vista capiamo quanto potentemente la moneta è uno strumento di relazione sociale e sebbene non pertenga alle considerazioni di questo corso possiamo anche intuire per quale motivi diverse religioni e filosofie vedono nell'accumulo di moneta, nell'accumulo di ricchezza qualcosa di eticamente riprovevole, perché scambia un mezzo, la moneta, per un fine. Il mezzo è quello di poter cooperare e di certo non è un fine, sebbene è chiaro che un certo accumulo di moneta può essere ragionevole per soddisfare il nostro bisogno psicologico di sicurezza nel futuro, quindi da questo punto di vista nasce naturale un accumulo, ma un accumulo che diventi lo scopo ultimo della moneta è chiaramente distorsivo rispetto ai fini che la moneta ha. Ecco che però in una economia dell'informazione globale nasce oggi l'esigenza di una moneta sovranazionale che sia facilmente trasferibile in maniera digitale, cosa che a tutt'oggi le monete con corso legale, caratteristiche che le monete con corso legale non hanno, perché se già in un sistema come quello euro abbiamo visto quali sono le difficoltà o comunque i tecnicismi noiosi e obsoleti che rallentano la trasmissione della moneta, quando andiamo su transazioni cross currency o cross border, questi problemi diventano ancora più gravi. E Bitcoin invece abbiamo visto che di un balzo supera questi problemi e si pone come soluzione. Ma allora proviamo a fare un gioco un po' ridicolo per certi aspetti, ma purtroppo necessario per ancorare la conversazione moderna e proviamo in una sola slide a fare tutta la storia della moneta, un giochino da poco. Allora la storia della moneta parte con l'adozione dell'oro come commodity monetary standard, quindi uno standard monetario basato su una materia prima che è scarsa, che ha un colore piacevole, che è resistente alla corrosione e all'ossidazione, la sua struttura chimico-fisica fa sì che non interagisca con l'ossigeno, è un metallo straordinariamente malleabile e di cui è tutto sommato facile verificarne la purezza. Basta prendere un grande paiolo, accendere un grande fuoco, farlo sciogliere, quindi togliere i detriti, poi farlo raffreddare. Se alla fine del processo di raffreddamento luccica ancora è oro. Ovviamente sebbene relativamente facile accendere questo paiolo insomma è abbastanza faticoso, ecco perché la purezza o la certificazione della purezza dell'oro l'abbiamo tipicamente affidata all'imperatore, al sovrano. Prima crisi inflazionistica della storia duemila anni fa sotto Cesare Augusto. C'era talmente poco oro nei sesterzi che anche la plebe si accorgeva di questa truffa. Ma l'oro ha anche un altro problema, l'oro pesa e se siete un mercante medioevale andare in giro con un sacchetto di monete o pepite d'oro è alquanto gravoso, sia in termini di peso fisico sia in termini di sicurezza, perché l'oro può essere rubato dai briganti. Ecco che allora i banchieri fiorentini e gli orafi londinesi propongono a questi mercanti di lasciare l'oro in giacenza, in deposito presso i loro forzieri. In cambio emettono una ricevuta, un certificato di deposito. Bene, questi certificati all'inizio sono nominativi, dopo poco diventano al portatore, diventano scambiabili. Nasce la banconota, cioè un tipo di moneta rappresentativa di un deposito cauzionale, di un deposito di garanzia, di un bene che sta a collateral in maniera sicuro presso un custodian, presso un custodian. Questi custodian però hanno realizzato velocemente che il turnover di persone che andavano veramente a chiedere il riscatto del certificato pretendendo di riottenere l'oro era estremamente basso. Qualcuno ha stimato il 10-15%. Ecco che nasce un'idea, una tentazione irresistibile. E se mettessimo più certificati di quanto oro abbiamo in deposito? La risposta è che non se ne accorge sostanzialmente nessuno. Nasce la moneta frazionaria. Moneta frazionaria che, fast forward, andiamo avanti veloci, arriviamo al 1972. Sistema di Bretton Woods, dei cambi fissi, tutte le monete hanno un cambio fisso tipicamente col dollaro e quindi fra di loro. Ma nessuna moneta è più convertibile in oro già da tempo. Solo il dollaro statunitense è l'unica moneta ancora convertibile in oro e quindi attraverso il sistema dei cambi fissi di Bretton Woods potenzialmente tutte le monete lo sono. Ma si sa benissimo che tutto l'oro di Fort Knox non basterebbe, non poteva bastare a redimere le banconote, i dollari in circolazione. E nonostante questo, nonostante questo, restava comunque un impedimento alla totale discrezionalità di politica monetaria il fatto che queste banconote dovessero essere redimibili in qualche modo. Richard Nixon decide, basta, da oggi il dollaro non è più redimibile in oro e da allora si parla di fiat money, proprio nel senso latino di fiat lux et lux fuit, moneta che ha valore soltanto perché noi decidiamo arbitrariamente con uno sforzo della nostra volontà, al massimo con un contratto sociale fra di noi che abbia valore. Ecco che allora questo stato delle cose che ci sembra del tutto usuale, consueto, accettabile e diciamolo pure normale, siete studenti di economia e finanza, sarei curioso di sapere quanti stimoli avete ricevuto da altri professori quanto a uno sguardo critico sulla storia della moneta e gli attuali sistemi monetari. Bene, un premio Nobel per l'economia come Friedrich von Hayek la pensa diversamente e risulta essere piuttosto scandalizzato dell'attuale stato delle cose. Non tanto, non solo perché tutta la storia monetaria è una storia di inflazione e di inflazione ingegnerizzata fondamentalmente a vantaggio dei governi, quanto dice von Hayek, soprattutto per il fatto che noi che non accetteremmo il monopolio su alcun bene, noi che viviamo in economia di mercato non monopolistiche, eppure accettiamo come tranquillo, accettiamo tranquillamente l'idea che la moneta, cioè quell'asset sintetico che entra al 50% di ogni transazione sia monopolio del governo o indirettamente o indirettamente tramite le banche centrali. Questo monopolio non solo come tutti i monopoli ci ha dato una cattiva moneta, ci ha dato un cattivo prodotto, ma soprattutto ci ha impedito di poter sperimentare, ha impedito la concorrenza di mercato, che innescasse appunto un circuito virtuoso di concorrenza, dove la migliore fra le monete potesse affermarsi. E allora Hayek dice, benedetto il giorno in cui non più dalla benevolenza dei governi ci aspetteremo la buona moneta, ma dall'interesse delle banche commerciali medesime. E sì, lui sognava un mondo in cui le banche commerciali emettono moneta privata, facendosi concorrenza fra di loro per prevalere sul mercato con la migliore moneta, cioè la moneta che, nella vista di Hayek, dia la maggiore o la migliore stabilità dei prezzi. E questo sarà un punto cruciale di questa lezione su cui torniamo a brevissimo. Ma quello che mi interessa sottolineare adesso è che noi viviamo decenni, gli ultimi 20-30 anni, in cui abbiamo sperimentato quella che per la prima volta nella storia, ma in realtà forse è possibile rintracciarne dei prodromi, ma almeno negli ultimi 20-30 anni è evidente che l'innovazione è in gran parte permissionless, non chiede il permesso a nessuno. E questo tipo di informazione permissionless è straordinariamente veloce ed efficace. Cosa intendo per innovazione permissionless? intendo un'innovazione che non prevede meccanismi di sicurezza centralizzati, non prevede barriere all'ingresso, non prevede controllo editoriale. Beh, ne conoscete degli esempi? L'email non è stato disegnato da un consorzio di uffici postali, è un esempio di innovazione che non chiede il permesso, che è molto veloce, che è molto efficace. Allo stesso modo internet non è stata disegnata da un consorzio di telecomunicazioni. Beh, insomma, io mi permetto di dire che probabilmente una nuova economia transazionale decentralizzata di certo non sarà disegnata da un consorzio di banche. E allora proviamo il giochino di spiegare cos'è la moneta e spieghiamola a un alieno che dovesse capitare in questo momento in questa classe. Allora voi, sulle cui facce vedo ancora qualche segno di perplessità rispetto ad alcune mie affermazioni provocatorie, lascio il compito di spiegare all'alieno cosa sia fiat money, cosa sia la moneta che usiamo regolarmente. E io mi prendo invece il grave e penoso carico di dover spiegare cosa sia bitcoin. E allora partiamo. Partiamo e vediamo innanzitutto che in entrambi i casi sia fiat money che bitcoin non hanno valore intrinseco. Ok? Non sono convertibili in nulla. Voi ovviamente cercherete di spiegare all'alieno che sì, però dietro la vostra fiat money c'è un contratto sociale che dà corso legale a quella moneta. E io spiegherò all'alieno, come ho fatto con voi, che bitcoin è il primo caso in ambito digitale di un bene scarso, trasferibile ma non duplicabile. È insomma oro digitale. E anche qui va bene, uno pari. In entrambi i casi non c'è valore intrinseco, ognuno di noi avrà tifato per la sua squadra in base a alcune caratteristiche che ne apprezza. Ma poi veniamo al fatto che voi dovete spiegare all'alieno che la moneta, almeno sotto la forma di contante caratteristica del vostro sistema, è qualcosa alla cui sicurezza è basata su carta e inchiostro. E sì, una carta speciale, un inchiostro speciale, ma stiamo parlando sostanzialmente delle monete del monopoli. Cioè di qualcosa che un signore a francoforte può stampare quando vuole e quanti ne vuole. Mentre io spiego all'alieno che la mia forma di moneta è basata su sicurezza crittografica, quindi sulla matematica. E lì già l'alieno potrebbe iniziare ad avere delle opinioni o delle preferenze. Quando poi veniamo al punto di raccontare all'alieno, voi che ha francoforte, c'è qualcuno che appunto di quella carta ne può stampare quanta ne vuole, quando vuole, in totale indipendenza, perché proprio per evitare manipolazioni governative abbiamo concesso che il banchiere centrale sia indipendente, quindi non risponda a nessuno, né al potere politico, né al potere legislativo, né agli elettori. Beh, io invece spiego che la governance di bitcoin è strettamente algoritmica, nessuno può cambiare la base monetaria, a piacere. Voi inoltre dovete spiegare all'alieno che tutti i banchieri centrali immaginano di controllare la moneta negli ultimi decenni con quella che viene chiamata teoria Winxeliana, da Winxel, l'economista, il quale sosteneva che la moneta si controlla tramite i tassi di interesse. L'alieno potrebbe essere avvisato che oggi abbiamo tassi di interesse negativi, che sanciscono esattamente la fine di questo momento storico, cioè il fatto che i tassi di interesse non sono sufficienti a controllare, a gestire la moneta, tant'è che abbiamo visto quantitativising, abbiamo visto nuove creative forme di gestione della moneta. Io viceversa potrò spiegare all'alieno molto semplicemente che l'offerta di moneta è deterministica e fissa. Insomma quest'alieno, vi garantisco, avrebbe qualche difficoltà a trovare voi ragionevoli e me strano. Ma se abbiamo detto più volte che Bitcoin è oro digitale più che moneta, e nel proseguo della lezione lo capiremo ancora meglio, il confronto utile da fare è proprio quello tra Bitcoin e l'oro fisico. Noi sappiamo che l'oro è stato adottato da tutte le civilizzazioni al mondo senza pianificazione centralizzata. La stessa cosa sta accadendo sostanzialmente oggi a Bitcoin. Viene scoperto da un numero sempre maggiore di persone che lo adottano o che in qualche modo ne hanno fiducia in maniera decentralizzata, senza una pianificazione governata dall'alto. Per secoli l'oro è stata la prima e più efficiente forma di moneta e questo è esattamente quello che sta accadendo a Bitcoin. L'oro digitale viene usato anche come moneta, viene usato per pagamenti e per transazioni. L'oro fisico è stato superato da forme più avanzate di moneta, più leggere, più facili da trasferire, più sicure, perlomeno per chi le trasporta con sé, ed è possibile e facile immaginare che la stessa cosa possa accadere a Bitcoin, ma che questo processo avvenga senza rendere obsoleto. L'oro fisico non è diventato obsoleto, Bitcoin potrebbe essere rimpiazzato da nuove forme di criptovaluta senza per questo diventare obsoleto. Abbiamo spiegato perché Bitcoin è oro digitale e lo abbiamo fatto in maniera construence, cioè dicendo quali sono le sue caratteristiche e perché quindi può ambire a questo titolo. Sul fatto che sia moneta vi abbiamo accennato e io non ho nascosto qualche mio scetticismo, ma non abbiamo mai fatto un affondo sul capire che cosa una cryptocurrency dovrebbe avere di diverso o di più rispetto a una crypto commodity. Allora, qui è importante capire che una delle proprietà principali della moneta è quella di essere usata come unità di misura. Chi fa un corso di interest rate derivatives o di derivati in generale sa bene che c'è l'idea di numerario, cioè dell'unità di misura con cui teniamo conto della nostra ricchezza. Che è arbitrario, tant'è che nelle metodologie matematiche che usiamo magari per il pricing dei derivati, addirittura cambiamo più volte il numerario per poter arrivare a numerari che rendono l'equazione che dovremmo risolvere il più semplice possibile. Ma tutto questo è in realtà un fatto cardinale che anche noi uomini antropologicamente, gli inventori della moneta, abbiamo bisogno di un metro, cioè di un'unità di misura rispetto da usare per valutare il valore di altri beni, quindi di qualcosa che è sostanzialmente il sistema dei prezzi. Il sistema dei prezzi è la modalità con cui noi misuriamo il valore di qualsiasi bene relativamente al valore della moneta come unità di misura. E una buona moneta doveva dare prezzi stabili, deve essere un'unità di misura stabile per poter efficacemente svolgere questo ruolo. Ma cos'è la moneta? Quali sono i ruoli della moneta? Allora, non è solo unit of account questa unità di misura, sebbene sarà la caratteristica su cui più ci concentreremo, ma la moneta deve avere tre caratteristiche. Deve essere mezzo di scambio, deve permettere la conservazione del valore, sebbene non necessariamente di un valore costante, e deve essere un'unità di conto. Sicuramente di tutte queste proprietà, la proprietà principale della moneta deve essere quella di essere mezzo di scambio. Lo abbiamo detto poco fa, la moneta è stata inventata come mezzo di scambio per consentire le relazioni e l'interscambio con coloro di cui non ci fidiamo. Cosa vuol dire mezzo di scambio? Mezzo di scambio vuol dire che deve essere scambiabile, fungibile, trasportabile, divisibile, riconoscibile e resistente alla contraffazione. Ma allora se guardiamo un po' di candidati come moneta, il bestiame, i diamanti, l'oro, il fiat money e bitcoin, abbiamo chiaro che per quello che riguarda mezzo di scambio il bestiame non è uno straordinario mezzo di scambio. Perché? Ma per esempio perché è faticosamente divisibile. Vi garantisco che la vostra capra, prima e dopo essere stata divisa in due parti, ha delle funzioni di utilizzo molto diverse. Ma neanche il diamante è un buon mezzo di scambio. Perché? Perché sapete che se prendete un diamante da 4 carati e lo dividete in due diamanti da 2 carati, i due diamanti che derivano non hanno lo stesso valore del diamante e dell'unità da cui provengono. Quindi perde valore nell'essere divisibile. L'oro, abbiamo già detto, è un ottimo, un buon mezzo di scambio. Le fiat currency fosse addirittura superiori all'oro dal punto di vista di trasportabilità, riconoscibilità, divisibilità. Bitcoin è sicuramente il più straordinario mezzo di scambio che abbiamo mai visto nella storia dell'umanità. Trasferimenti istantanei, infinita divisibilità, falsificabilità sostanzialmente impossibile, no? Quelle caratteristiche le ha tutte al massimo grado. Oddio, tranne forse la fungibilità, ma ne abbiamo accennato e diciamo che la tracciabilità di Bitcoin, che rende non tutti i Bitcoin uguali, è una bug e sicuramente sarà corretta andando avanti in futuro. Ma facciamo finta, glissiamo su questo punto, tant'è che il mondo non ne parla molto, perché non capendo bene che cosa si tratta di Bitcoin, si concentra su critiche invece piuttosto implausibili, invece che su critiche tecniche, come dovrebbero essere quelle sulla fungibilità. Chiudiamo questa parentesi e andiamo alla seconda caratteristica della moneta, store of value. E lì vedete che constant è cancellato, perché quello che noi vogliamo dalla moneta è che possa essere affidabilmente conservata e successivamente recuperata, che possa mantenere la sua utilità nel tempo, che possa mantenere le sue proprietà di conservazione, che sia non deperibile o con almeno un basso costo di preservazione. Ecco che allora vediamo che il bestiamo di nuovo è una pessima moneta, perché muore. Mentre il diamante, come dice la pubblicità, un diamante per sempre, quindi è uno straordinario store of value, stesso dell'oro, stesso possiamo dire delle banconote, delle fiat money e sicuramente lo stesso anche di Bitcoin. Qui c'è spesso una confusione. Una confusione legittima, perché queste tre qualità della moneta non esistono in astratto, ma sono strettamente collegate le une alle altre. Se una moneta non fosse store of value, cioè non si conservasse nel tempo, sicuramente non potrebbe essere medium of exchange. Se non fosse medium of exchange non potrebbe conservare il suo valore nel tempo. Bene, una delle confusioni principali è proprio quella di pensare che store of value, conservazione del valore, indichi conservazione di valore costante. Mentre questo non è assolutamente, e questo deriva dall'ibridazione dell'idea di store of value con quella di unit of account, che approfondiamo fra un attimo. Perché questo io dico è una fonte di confusione? Perché se io prendo una banconota da 100 euro e la metto nel cassetto del mio comodino, quando tra vent'anni riapro il coponido e tiro fuori quella banconota, quello che posso chiedere alla banconota è di non essere evaporata, ammuffita, di non essersi decomposta, di non essere sparita indipendentemente da ladri o da altri attori che l'hanno sottratta. Ma non posso chiedere alla banconota di per sé di aver conservato il suo potere d'acquisto. Quale sarà il potere d'acquisto di 100 euro tra vent'anni? Dipende dalla politica monetaria di quella moneta e non dal bene fisico, dalla fisicità o dalla concretezza di quella forma di moneta. La costanza del valore, invece, che una moneta abbia un valore costante, ha più a che fare col suo essere di nuovo unità di conto, cioè misura di valore relativo, per cui vogliamo che abbia un valore costante per poter avere una comparazione di prezzi stabili. E perché la moneta sia stabile nel suo valore deve evidentemente la sua offerta essere in qualche maniera controllata, non arbitraria o non facilmente duplicabile. Questo punto è straordinariamente qualificante. Prendiamo un'altra unità di misura, prendiamo il metro. Ora immaginate voi un mondo in cui il metro ogni giorno si accorcia o si allunga e noi come dei pazzi dobbiamo correre in giro a rimisurare distanze e lunghezze. Un mondo dei folli. Bene, esattamente questo mondo dei folli, quello in cui siccome una moneta cambia valore, noi continuamente aggiorniamo i prezzi di beni che di per sé non hanno cambiato il loro valore, ma semplicemente sono misurati su un metro che continuamente si allunga o si restringe. Quando si tratta di unit of account abbiamo di nuovo che il bestiame non si presta granché, non tutte le pecore sono uguali, quindi non tutti i buoi sono uguali, è difficile misurare le cose in pecore e in cammelli, i diamanti se la cavano, l'oro se la cava, le monete fiat money sono una pessima unità di conto. Magari qualcuno di voi storcerà il naso, ma vorrei farvi presente che nella storia della moneta la vita media di una fiat currency è 18 anni. Cioè il tempo che passa tra quando è accettabile, accettate, ha un valore d'acquisto, un potere d'acquisto e quando crolla a zero è in media di 18 anni. Vabbè voi direte però professore se ci ristringiamo agli ultimi 20 anni al dollaro, alla sterlina, al franco svizzero, all'euro sono buone unità di conto. D'accordo, lo concedo, diamo 4 stelle alle fiat currencies. Ma per quanto riguarda bitcoin, bitcoin è terribile, solo due stelle. Qual è il problema di bitcoin? Bitcoin si è rivalutato e si rivaluta talmente tanto che i prezzi espressi in bitcoin sono continuamente da rimisurare, da ridefinire. Potremmo non lamentarcene perché si ridefiniscono al ribasso, ma questo fa sì che bitcoin sia un buono strumento di investimento, ma non un buon metro di misura. D'accordo? E questo vuol dire che bitcoin non è una buona moneta. Cosa che non è in alcun modo da intendersi come una critica a bitcoin, che tutto sommato mai ha voluto essere una buona moneta, ma è sempre stata straordinario oro digitale. E il fatto che i primi che hanno adottato bitcoin abbiano usato o usino tuttora bitcoin anche come moneta, non vuol dire che bitcoin si candidi necessariamente, intrinsecamente, ontologicamente ad essere moneta. Allora, la storia della moneta e soprattutto della ricerca di una moneta che fosse una buona unità di conto, che desse prezzi stabili, è sostanzialmente la storia del sacro graal della teoria monetaria. Chi volesse approfondire trova qui alcuni riferimenti a come nella storia millenaria della moneta, ma in particolare negli ultimi almeno 3-4 secoli, abbiamo cercato monete stabili senza mai riuscire a trovarle. E sicuramente non è bitcoin da questo punto di vista ad aver, a rappresentare il punto di arrivo di questa ricerca, o il sacro graal di questa ricerca, perché bitcoin, avendo successo a liberarsi di un'autority monetaria centralizzata, ha dovuto rinunciare alla flessibilità di una politica monetaria elastica. Se noi guardiamo a ciò che nell'aprile 2011 era acquistabile con un dollaro, vediamo che 3 anni dopo era acquistabile con 1,06 dollari. La Fed ha fatto un ottimo lavoro, 2% di inflazione annua, 2 anni dopo quello che acquistavo con un dollaro l'acquisto con 1,06 dollari. Bitcoin, che guarda caso nell'aprile 2011 aveva raggiunto proprio la parità col dollaro statunitense, quindi valeva un dollaro, beh quello che si acquistava con un bitcoin nell'aprile 2011, 3 anni dopo si acquistava con un 5 centesimo di bitcoin, perché bitcoin era schizzato a 500 dollari. Ora capite che se come investitore questo vi rende felice, beh immaginate di aver fatto un mutuo in bitcoin, un mutuo che è cresciuto di 500 volte tanto, o immaginate di essere un imprenditore che sta pagando dei salari denominati in bitcoin, dovete dichiarare banca rotta, o in generale di essere due aziende che hanno fatto un contratto a termine, per un pagamento a termine e dopo tot mesi il costo in termini di potere d'acquisto è quintuplicato, se non 500 duplicato come accadeva in 3 anni. Allora è chiaro che bitcoin non è una buona unità di conto. E allora? Beh allora bitcoin essendo straordinario oro digitale, permette in realtà anche nella storia della moneta di avvicinarsi, di avvicinarci a quel sacro graal di una moneta stabile con alcuni, tutto sommato, semplici passaggi, che sono poi il cuore di questa lezione. Quindi mi scuserete per una lunga carrelata introduttiva che però voleva e vuole fissare dei punti affinché il dialogo in questa seconda parte della lezione sia saldamente ancorato su una comprensione generale di cos'è l'oro, di cos'è la moneta, di quali sono le qualità della moneta o le caratteristiche che una buona moneta deve avere ed in particolare quindi vedere quali possibilità nella storia della moneta si aprono con bitcoin. Ed in particolare con quella che io chiamo IEC money, cioè con la possibilità di ingegnerizzare criptovalute di seconda generazione che abbiano una politica monetaria deterministica ma elastica. Prima di procedere a questa seconda parte della lezione vorrei capire se avete delle domande. Quindi questa parte su moneta, su oro, si capisce? Ci sono delle obiezioni, delle difficoltà di comprensione? Bene, allora proseguiamo. Abbiamo detto IEC money, tributo appunto a Frederick von IEC è, nelle intenzioni del sottoscritto che per prima ha usato questo termine e che lo propone, per indicare uno standard monetario di cryptocurrency con offerta di moneta elastica ma non discrezionale. Quindi offerta di moneta pur sempre deterministica, algoritmica ma non fissa, non inelastica, elastica. È evidentemente un paradigma di stabilità dei prezzi che si pone in riferimento a un certo basket, a un certo insieme di beni. Si può parlare di stabilità dei prezzi quando un certo paniere di beni di riferimento ha un prezzo stabile nel tempo. Quindi evidentemente dovremo assumere un qualche reference basket. E possiamo immaginarci in questo mondo diverse cryptocurrency che competano fra di loro, proprio come nel sogno aiechiano della moneta, scegliendo diversi basket di riferimento e diverse politiche monetarie e gareggiando fra di loro in una libera competizione di mercato per vedere qual è la migliore moneta che si afferma. E sì perché se Frederick Von Hayek senza nessun dubbio sarebbe stato entusiasta di bitcoin perché abilitava questo percorso di moneta privata che invece abbiamo visto negli ultimi 30 anni, in particolare negli scorsi decenni del movimento cypherpunk, essere straordinariamente problematica con i suoi esponenti principali, i Liberty Dollar, i Gold, arrestati. Quindi Hayek avrebbe gioito all'apertura delle possibilità tecniche che bitcoin dà, ma sicuramente non avrebbe in alcun modo apprezzato bitcoin come buona moneta perché non dà prezzi stabili, che era un po' la qualità principale con cui Hayek valuta la moneta. Ma allora che cosa intendiamo per una moneta, per una cryptocurrency che ha una politica monetaria elastica? Facciamo un esempio, d'accordo? Abbiamo detto che il 15 aprile 2011 bitcoin raggiunge la parità col dollaro e tre anni dopo arriva a 500 dollari, d'accordo? Prendiamo questo periodo storico in esame e possiamo dire che in questo periodo storico bitcoin, la domanda di bitcoin è cresciuta 500 volte di più rispetto alla domanda per i dollari statunitensi. Cioè relativamente al dollaro statunitense la domanda di bitcoin è cresciuta 500 volte. Ora immaginate che io possa avere la bacchetta magica e quindi all'alba del 29 marzo 2014, quando cioè c'erano in circolazione circa 12,5 milioni di bitcoin, avessi potuto fare il trucco, il gioco di prestigio, il numero magico e aumentare il numero di bitcoin in circolazione di 500 volte. Quindi a metrano, banchiere centrale, oddio un incubo veramente, ma che il 29 marzo del 2014 aumenta il numero di bitcoin di 500 volte. Che cosa sarebbe successo? Beh ragazzi nulla di drammatico, perché il 29 marzo 2014 sarebbe stato assolutamente equivalente possedere un bitcoin che valeva 500 dollari, ho 500 bitcoin ribasati, questi bitcoin che io ho moltiplicato in numero, ognuno dei quali a causa di questo aumento della quantità sarebbe crollato a un valore di un dollaro. E quello che succede in ambito equity, in ambito azionario, quando si fa un coin split, c'è un'azione da 10 dollari, vengono emesse 10 azioni da un dollaro. Ecco, immaginiamo che invece di un equity split, il 29 marzo 2014 il banchiere centrale a metrano avesse potuto fare un coin split, l'effetto sarebbe stato possedere un bitcoin che vale 500 dollari o possedere 500 ribased bitcoin, ognuno valido un dollaro. Assolutamente equivalente. E sì, ma se questa cosa fosse fatta ogni giorno, sistematicamente, immaginate che alla chiusura, noi sappiamo che il mercato bitcoin non chiude mai, ma immaginiamo che a una certa ora di riferimento, quando quindi viene osservato il prezzo di riferimento di bitcoin, il banchiere centrale di bitcoin o l'algoritmo che gestisce bitcoin, se bitcoin è andato a 2 dollari, raddoppia il numero di bitcoin. Se bitcoin è andato a 0,50 centesimi, di mezzo è il numero di bitcoin. Quello che avremmo visto in quei tre anni, tra il marzo 2011 e il marzo 2014, sarebbe stata una serie storica dei prezzi, cioè dei cambi tra dollaro e ribased bitcoin così fatta, che quindi ha un'ampia, straordinaria, drammatica volatilità, ma che uscilla intorno alla parità. Ovviamente se noi avessimo fatto questo, cioè avessimo usato come paniere di riferimento il dollaro statunitense, il nostro ribased bitcoin avrebbe comprato inevitabilmente, automaticamente, la politica monetaria del dollaro statunitense, cioè l'inflazione del 2% annuo. Ma allora noi non vogliamo agganciarci a un paniere così subottimale e soprattutto così manipolabile da qualcuno in maniera discrezionale. Allora immaginiamo di ancorare la stabilità, il prezzo, il valore del nostro bitcoin, o meglio del nostro rebase bitcoin, a un paniere di petroli, grani. Allora vedete che questa è la quotazione del petrolio in quei tre anni, del parile Brent, e questa è la quotazione, scusate, questa è la quotazione, la linea rossa è la quotazione del Brent, la linea verde è la quotazione del grano. Bene, se noi creiamo un basket, quindi un paniere con una certa percentuale di grano, una certa percentuale di petrolio, possiamo avere un basket che ha quotato durante quei tre anni intorno a circa 400 dollari. Ovviamente quel basket che nell'aprile 2011 io compravo esattamente con 400 bitcoin, perché il cambio dollaro bitcoin era uno a uno, tre anni dopo lo compro con meno di un centesimo di bitcoin. Quindi stessa dinamica dei prezzi. Ma quale sarebbe stato il prezzo di questo paniere in rebase bitcoin? Se il rebase bitcoin avesse appunto voluto ottenere la stabilità dei prezzi, e quindi la quantità fosse stata dinamicamente modificata affinché il prezzo di questo paniere fosse stabile? Eccolo qua, il paniere diventava fisso, una linea straight, assolutamente continua, senza alcuna variazione di prezzo. Qui avevamo il prezzo del petrolio in rebase bitcoin, qui abbiamo il prezzo del grano in rebase bitcoin, e qui abbiamo il prezzo del paniere in rebase bitcoin. Perfetta, assoluta stabilità dei prezzi. La cosa interessante in questo scenario è che un tale bitcoin ribasato, se andiamo a plottarne la volatilità normalizzata rispetto alla volatilità euro-dollaro, vediamo che all'improvviso ha una volatilità paragonabile. Cioè, se questa è la riga rossa, il cambio dollaro-euro, questa, la riga blu, è il cambio dollaro-ribase bitcoin. Cioè, all'improvviso, questo ribase bitcoin diventa una moneta come le altre, con una certa stabilità nel cambio. Ma veramente vogliamo ribasare bitcoin? No, vi prego, questa è una butade. È una butade che noi utilizziamo per poter usare la serie storica dei prezzi di bitcoin, e quindi poter spiegare che cosa sarebbe successo a un bitcoin con politica monetaria elastica. Ma in alcun modo io intendo dire che bitcoin debba avere una politica monetaria elastica. Oddio, forse era un'ingenuità che nei miei primi mesi del 2014, quando avevo conosciuto bitcoin da poco, avevo pensato, ma che poi rapidamente ho realizzato essere un'assoluta sciocchezza. Bitcoin è oro, bitcoin è, va bene così com'è, è una crypto commodity, non è una cryptocurrency, fine della storia. E la cosa interessante però soprattutto qual è? È che bitcoin in realtà bootstrappa un sistema. Rende possibile un percorso che altrimenti non sarebbe stato possibile. Ma vediamolo fra un attimo. Concludiamo prima l'analisi di questa prima semplice, anzi direi quasi semplicistica, implementazione di Hayek Mani, cioè di un paradigma di politica monetaria elastica ma non discrezionale, e proviamo a vedere che limiti ha questa implementazione semplicistica che abbiamo appena disegnato. Allora sicuramente abbiamo visto che dà dei risultati positivi, nel senso che garantisce la stabilità dei prezzi, e quindi all'improvviso salari, mutui, pagamenti a termine diventano possibili. Cioè il problema da cui siamo partiti in qualche modo lo abbiamo risolto. Ma ha dei limiti drammatici questa proposta. Perché? Ma perché il numero di monete in un portafoglio cambierebbe continuamente senza che stiano avvenendo dei veri e propri flussi di cassa in ingresso e in uscita. Io apro il mio portafoglio oggi e ha 20 bitcoin. Lo apro dopo domani e ha 21 bitcoin. Lo riapro dopo domani e ha 18 bitcoin. E tutto questo senza che io abbia speso o ricevuto bitcoin. Sicuramente questo è un paradigma che lascia inquieti. Per carità, non troppo inquieti. Se voi pensate al saldo del vostro conto corrente, sono abbastanza sicuro che abbiate un'idea di massima di quale sia il saldo. Ma non sapete certamente qual è il saldo al centesimo. E ogni volta che lo guardate il saldo è diverso da come era prima. Perché è arrivata una bolletta, perché è arrivato lo stipendio, perché è arrivato il regalo della nonna. Cioè, insomma, però lasciamo stare. È indubbio che un numero di monete che cambiano nel mio wallet arbitrariamente, dinamicamente e continuamente mi lascia inquieto. Ma non solo. Il vero problema è che se io ho 10 bitcoin nel mio portafoglio e bitcoin aumenta 500 volte, mi ritroverei 5000 bitcoin. Il che vuol dire che il potere d'acquisto di un bitcoin rimane costante. Ma il potere d'acquisto del mio wallet no. E se invece che aumentare 500 volte bitcoin perdesse il 90% del suo potere d'acquisto, i miei 10 bitcoin diventerebbero un bitcoin. Il bitcoin avrebbe lo stesso potere d'acquisto. Ma il mio portafoglio no. Ne avevo 10 e ne ho 9. Immaginate, esco per andare ad acquistare un nuovo televisore con 10 bitcoin e arrivo in negozio e ho 9 bitcoin e 80. E il televisore costa 10 bitcoin. Non lo posso acquistare. Ma non è tanto, ripeto, questa variabilità ad essere il problema. Il vero problema è il vero problema è che le monete, i coin che io ho nel wallet mantengono un appeal speculativo. Cioè se io sono convinto che bitcoin salga io non spenderò bitcoin. Perché spendere un bitcoin nell'aprile 2011 vuol dire perdere 500 bitcoin nel marzo 2014. Quindi morale. Anche con questa proposta di politica monetaria elastica bitcoin non diventerebbe mai una buona moneta transazionale. Perché la gente piuttosto che spenderlo lo tesorizza. se come in questa fase storica ritiene che il prezzo dovesse aumentare. Ok? E noi quello che vogliamo invece è una moneta transazionale. Una buona moneta transazionale. Ed ecco che quindi ci avviamo alla conclusione di questa lezione disegnando lo schema di un dual asset ledger che ha alle spalle una reserve asset bank. Che cosa intendiamo? Innanzitutto noi dobbiamo ottenere questo risultato fondamentale che è quello di dividere la domanda di moneta speculativa dalla domanda di moneta transazionale. Bitcoin in quanto crypto commodity ha un appeal speculativo troppo alto. Non sarà mai una buona moneta transazionale. Allora inventiamoci due crypto asset badate bene non fungibili uno stable coin un transactional coin una moneta transazionale che deve avere valore stabile nel tempo e invece una share un'azione speculativa che abbia valore non costante nel tempo che si può permettere quindi di non essere stabile. Ovviamente la tecnologia blockchain traccerà l'ownership e le transazioni di entrambi questi crypto asset. Quindi abbiamo uno stable coin e una speculative share. e allora immaginiamoci di fare un IPO un'offerta pubblica di acquisto cioè di lanciare una reserve asset bank oppure se volete una central bank o meglio ancora di lanciare una decentralized central bank una decentral bank una banca decentrale. Facciamo un'offerta pubblica di acquisto sapete cosa sono le offerte pubbliche di acquisto? Si va sul mercato si offrono delle azioni bene noi offriamo delle azioni in cambio raccogliamo bitcoin raccogliamo bitcoin come asset di riserva immaginiamo che durante questa IPO di raccogliere un certo quantitativo di bitcoin che individuiamo che chiamiamo reserve asset ok? gli asset di riserva e perché raccogliamo bitcoin? raccogliamo bitcoin perché vogliamo evitare di avere asset di riserva non criptografici non basati non digitali asset criptografici che richiedano un custodian perché introdurre un custodian cioè un'entità legale che debba detenere a riserva dei dollari delle sterline o del loro fisico e reintroduce una forma di centralizzazione e soprattutto reintroduce quella legal entity che i gold e liberty dollar hanno già mostrato che il potere costituito non ama e che il potere costituito non esita a spegnere e addirittura a incarcerare e allora immaginiamoci di fare una reserve asset bank che sia algoritmica che sia un protocollo che sia un software e questo software non ha alcun problema a gestire degli asset di riserva che siano sotto la forma di cryptocurrency o meglio ancora di quella cryptocurrency principe che è bitcoin e ovviamente è un IPO quindi stiamo emettendo delle azioni in cambio di questi asset di riserva ma non emettiamo solo delle azioni emettiamo delle azioni ed emettiamo dei coin quindi emettiamo S azioni ed emettiamo un numero C di coin sostanzialmente abbiamo creato una base monetaria fatta di coin e fatta anche di azioni che dovrà in qualche modo intrinsecamente soddisfare il criterio per cui la quantità di asset di riserva che abbiamo sarà ciò che è a garanzia di tutti i coin e di tutte le share a cui il mercato darà un prezzo rispettivamente prezzo del coin e prezzo della share e quindi abbiamo che C coin per prezzo coin più S share per prezzo share dovrà stare all'equilibrio con gli asset di riserva d'accordo? il che vuol dire che questi coin capite sono redimibili per per dell'oro digitale che una reserva asset bank custodisce a garanzia di questi coin e allora il coin può avere un paniere di riferimento rispetto al quale vuole ottenere la parità dei prezzi cioè il target di politica monetaria è che il prezzo del coin sia circa 1 magari consentendo al coin di fluttuare un corridoio tra 0,95 e 1,05 il corridoio arbitrario avrebbe potuto essere 0,98 e 1 e 0,2 avrebbe potuto essere un corridoio asimmetrico 0,97 e 1 e 0,2 ma insomma avete capito l'idea e nel prosiegu noi useremo un corridoio simmetrico quindi la banca la reserve bank che potrebbe addirittura essere una decentralized autonomous organization quindi un software un protocollo senza alcun gestore centrale quello che fa è l'enforcing di condizioni di constraint sul prezzo quindi obbliga il prezzo a stare in questo corridoio come? beh questa reserve bank è sempre disponibile ad emettere nuovi coin a 1,05 per cui non c'è motivo che un coin sul mercato abbia un valore superiore a 1,05 perché per 1,05 è possibile comprare il coin dalla reserve asset bank pagandolo appunto in bitcoin ma alla stessa maniera non ha senso che sul mercato il prezzo di questo coin scenda sotto 0,95 perché la reserve asset bank è sempre disponibile a comprare questo coin a 0,95 distruggendo gli asset di riserva cioè usando i bitcoin che ha in riserva per pagare l'acquisto di questi coin in maniera assolutamente deterministica quindi fino anche alla distruzione di tutte le riserve quindi se ci sono riserve a sufficienza il coin non scenderà mai sotto 0,95 se il coin ha una PIL quindi piace quindi la gente lo vuole quindi il suo prezzo sale non salirà mai oltre 1,05 perché a quel prezzo vende la reserve asset bank il coin è bloccato in questo corridoio abbiamo sostanzialmente quindi due scenari di politica monetaria due fasi una fase espansionistica cioè quando il coin tende ad andare verso 1,05 tende a rompere l'upper bound la barriera alta di 1,05 abbiamo detto la reserve asset bank emette nuovi coin e li vende quindi ovviamente aumentando nella quantità ne deprime il valore ed in cambio badate aumenta gli asset a riserva perché ogni volta che vende un nuovo coin incassa bitcoin che aggiunge i suoi asset di riserva viceversa in una fase monetaria di contrazione cioè quando la base monetaria deve essere ridotta ridotta perché perché il coin sta testando sta cercando di rompere la barriera che c'è al ribasso a 0,95 insomma la gente non lo vuole sto coin o non pensa che valga più di 0,95 quindi tende a venderlo ebbene la banca la reserve asset bank evidentemente scusate la reserve asset bank acquista questi coin e conseguentemente li distrugge usando i bitcoin che ha come asset di riserva e lo fa algoritmicamente lo fa senza discrezionalità quindi lo fa finché ha asset di riserva a disposizione per difendere il coin e evitare che scenda sotto 0,95 ora voi capite che se gli asset di riserva sono molti più dei coin in termini di valore economico non ci sono problemi e questo deve essere sicuramente il caso al momento dell'IPO immaginiamo di collateralizzare lo stable coin 10 a 1 cioè per una quantità di bitcoin che vale 10 unità del paniere di riferimento noi emettiamo un coin che vale un'unità di paniere di riferimento quindi per ogni coin c'è 10 volte tanto in potere d'acquisto a garantire quel coin ovviamente andando avanti le riserve si possono svalutare non è il caso con bitcoin vediamo che continua a salire il numero di coin può crescere ma insomma si spera che la quantità di asset di riserva sia sempre superiore al numero di coin anche andando avanti e questo garantirebbe che non solo nella fase espansiva che evidentemente è la fase facile quando tutti lo vogliono questo coin è un gioco da ragazzi e metterne di nuovi venderli sul mercato e incassare il vero problema è quando nessuno li vuole questi coin poterli difendere in termini di potere d'acquisto e la cosa si fa solo distruggendo risorse distruggendo gli asset di riserva guardate che non c'è nulla di straordinariamente geniale in questo schema questo è uno schema un po' primitivo ma con cui tante banche centrali soprattutto alcuni decenni fino ad alcuni decenni fa difendevano le loro monete tutto sommato gli asset di riserva di una banca centrale ancora oggi sono usati in questo modo quando una moneta è sotto un attacco speculativo e viene venduta 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 la banca centrale la compra 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 dando fondo alle riserve che ha quando invece una moneta si rivaluta troppo la banca centrale tenta di aumentare la quantità di moneta tipicamente lo fa con i tasti di interesse ma sotto attacchi speculativi addirittura lo fa vendendo la propria moneta ed incamerando riserve riserve aure e riserve in altre monete quindi è un paradigma tutto sommato abbastanza semplice che cosa succede al nostro coin quindi quando il nostro coin dovesse veramente mantenersi intorno alla parità beh la cosa interessante è che il coin perde qualunque appil speculativo non c'è nessun buon motivo per tesaurizzare i coin perché tanto sappiamo che avranno un potere d'acquisto costante e allora li spenderemo volentieri e allora probabilmente ne avremo nel nostro portafoglio il numero minimo che ci serve per le nostre esigenze transazionali o in termini di asset liability management per le previsioni di spesa future ma la cosa interessante è che un coin che ha la velocità di una moneta elettronica quindi che si sposta molto velocemente e che permette quindi un volume di transazioni molto alto fra l'altro se avete qualche elemento di politica monetaria di coin si fatti ne bastano relativamente pochi perché si dice che la quantità di moneta moltiplicata la sua velocità debba soddisfare le esigenze di un'economia transazionale cioè di prezzi per numero di transazioni quindi se la velocità aumenta la massa di coin può essere ridotta possiamo avere pochi coin i coin non verrebbero inflazionati o deflazionati arbitrariamente e quindi evidentemente la validazione delle transazioni dovrebbe avvenire attraverso le emissioni di nuove share non di nuovi coin ma cosa sono queste share quindi facciamo un attimo un focus su cosa sono quelle che io chiamo share di signoraggio perché? perché in qualche maniera sono la nostra partecipazione azionaria in una reserve asset bank cioè in una banca centrale o meglio in una banca de centrale quindi sono azioni di signoraggio sono la nostra partecipazione agli utili di signoraggio sono Dio sono anche la nostra partecipazione alle eventuali perdite monetarie ma come funziona il gioco? allora il signoraggio sappiamo cos'è è principalmente il differenziale tra il costo di produzione della moneta e il suo valore d'acquisto queste share non vengono mai bruciate o distrutte gli shareholder sono coloro che possono ovviamente manutenere il reference basket il paniere di riferimento lo supponiamo che ci sia un paniere di riferimento che ha dentro il petrolio e uno straordinario breakthrough di ricerca crea della energia verde per cui il petrolio non lo vuole più nessuno potrebbe essere ragionevole che uno decide di eliminare il petrolio da questo paniere di ridurlo progressivamente fino all'eliminazione chi può fare questa cosa? chi ha il diritto di farla? ma è molto semplice ha il diritto di farla il banchiere centrale che in questo caso è rappresentato dai suoi azionisti quindi gli azionisti di questa reserve asset bank legittimamente possono manutenere il basket di riferimento della loro moneta anche perché perché il prezzo delle loro azioni è un prezzo che fluttua non è un prezzo stabile è un prezzo che assorbe tutti i costi di politica monetaria assorbe tutte le perdite e oddio in camera anche tutti i benefici sostanzialmente proteggendo i detentori di coin dalla volatilità del coin come accade questo? beh è semplice se noi capiamo che il valore delle azioni per una qualunque azienda in un qualunque momento è la differenza tra i suoi asset e le sue liabilities sostanzialmente quindi possiamo dire che il numero di azioni moltiplicato del prezzo di ogni azione dovrà essere uguale alla differenza tra gli asset di riserva meno le liabilities che sono il numero di coin per 0,95 abbiamo detto che la Reserva Asset Bank si impegna in ogni momento a comprare i coin esistenti sul mercato a 0,95 e allora che cosa succede se il coin testa verso il basso il boundary di 0,95 questa equazione fa sì che se la quantità di asset di riserva è minore dei coin per 0,95 quindi se abbiamo meno asset gli asset sono inferiori in quantità le liabilities beh è molto semplice il coin fallisce la Reserva la Reserve Bank defaulta e in particolare il prezzo dell'azione va a 0 perché tutti gli asset di riserva vengono completamente distrutti per acquistare coin a 0,95 ma c'è un altro scenario quello in cui gli asset di riserva invece siano superiori alle liabilities beh in quel caso se tutti vendono il coin nessuno vuole questo coin quello che succede è che il coin muore lo stesso che la Reserve Bank però non defaulta perché le rimane residualmente Reserve Asset meno Liability qualcosa il prezzo delle azioni è maggiore di 0 dovrà fare una liquidazione oppure rimangono solo le azioni in campo ma questo scenario è poco interessante perché vuol dire che non c'è alcun interesse per delle monete stabili per uno stable coin ma l'ultima cosa che rimane sul mercato sono share speculative il cui valore cambia nel tempo che sono sostanzialmente la titolarità di una certa quantità di bitcoin sono sostanzialmente bitcoin quindi questi due scenari sono gli scenari in cui un coin stabile non interessa non serve oppure indicizzato a un paniere che per qualche motivo è economicamente non significativo scenario di morte del coin con eventuale default della Reserve Asset Bank o magari non di default ma di liquidazione della Reserve Asset Bank che non ha più motivo di esistere e sì perché ricordiamoci che uno scenario aecchiano di competizione fra monete prevale la moneta migliore non è che prevalgono tutte non è che sopravvivono i 700 i 1000 i 1200 altcoin che ci sono in circolazione prevale vince il migliore ma lo scenario più semplice quello più positivo quello che porta le notizie buone per i nostri shareholder è quello in cui il coin invece è in demand tutti lo vogliono e quindi va verso 1,05 a quel punto abbiamo detto emettiamo nuovi coin li vendiamo per bitcoin quindi la Reserve Asset Bank incassa bitcoin e spinge evidentemente il prezzo del coin in basso verso la parità e badate che gli asset di riserva per ogni coin che emettiamo aumentano di 1,05 le liability aumentano di 0,95 l'effetto netto nel caso in cui il prezzo del coin stia nella parte alta del corridoio è che il valore delle azioni di signoraggio aumenta quindi se il coin nessuno lo vuole le loss le assorbano gli azionisti se il coin tutti lo vogliono i profitti vengono incamerati dagli azionisti capite che sono azionisti del signoraggio sono gli azionisti di questa banca decentrale ma che cosa stiamo facendo in questo schema? sostanzialmente stiamo usando bitcoin come Reserve Asset cioè bitcoin la prima e l'istanza di maggior successo di un asset digitale intrinsecamente scarso viene proprio usato come è stato usato l'oro fisico l'oro digitale viene usato come asset di riserva come è stato per l'oro fisico da questo punto di vista le qualità di bitcoin sono straordinariamente magnificate e i suoi limiti sono straordinariamente diminuiti perché non c'è più bisogno che bitcoin scali a volumi transazionali giganteschi è un asset di riserva è il coin che verrà usato per tantissime transazioni per pagare il cappuccino l'oro di riserva nei forzieri elettronici di questa mia banca decentrale resta lì e viene transato raramente in scenari tra virgolette di crisi o di straordinaria crescita quindi bitcoin non dovrebbe più sopportare i micropagamenti che sono economicamente inefficienti né si dovrebbe preoccupare del fatto di avere tempi di conferma dell'ordine dei 10 minuti se non dei 60 minuti che non sono adeguati evidentemente a un'economia transazionale che non vuole accettare il giorno o i due giorni di settlement delle fiat currency ma che tutto sommato vuole essere veramente istantanea e insomma l'offerta pubblica di acquisto della nostra reserve bank è stata proprio incassare bitcoin emettendo share di signoraggio e peraltro incidentalmente coin stabili in questo scenario abbiamo solo detto velocemente che evidentemente non possiamo usare coin per remunerare chi valida le transazioni perché non vogliamo inflazionare il numero di coin arbitrariamente il numero di coin deve essere regolato da target di politica monetaria di stabilità dei prezzi di conseguenza come possiamo remunerare chi valida le transazioni beh emettendo nuove share ma emettere nuove share diluisce gli azionisti esistenti quindi gli azionisti esistenti vorranno che la nuova share venga emessa in cambio di valore magari in cambio di bitcoin che entrano come asset di riserva ma scusate nel mondo bitcoin i nuovi bitcoin che vengono emessi vengono emessi in cambio di hardware e corrente elettrica che vengono in qualche maniera dissipati in cambio della proof of work ecco che allora noi possiamo immaginare che invece dell'hardware e della corrente elettrica che vengono spesi nella proof of work nel nostro sistema immaginiamo una proof of payment dove dei bitcoin sono irrevocabilmente pagati dai nodi validanti alla reserve asset bank in una proof of payment cioè ogni nodo invece di fornire potenza computazionale fornisce bitcoin e badate proprio come la potenza computazionale di un nodo che tenta di validare un blocco è consumata irrimediabilmente sia che il nodo valida il blocco sia che il nodo non ci riesca così questo pagamento è irreversibile e a beneficio dalla reserve asset bank sia che il nodo valdi un blocco e quindi abbia la ricompensa di una nuova share sia che non lo abbia ovviamente le probabilità di essere estratti per la validazione del prossimo blocco saranno proporzionali al pagamento totale fino a quel momento sottomesso da un nodo quindi alla proof of payment viene accumulata fino a quel momento da un nodo quando un nodo viene estratto e quindi vince il diritto di validare un nuovo blocco beh la sua proof of payment viene azzerata e una nuova share viene emessa e viene data a quel nodo è importante però capire che proprio come nella proof of work così come il lavoro della proof of work è fatto e non è in nessun modo riottenibile è dissipato indipendentemente che il minatore la ricompensa la riceva o non la riceva allo stesso modo qui il pagamento è dissipato irreversibilmente a vantaggio dalla reserve asset bank indipendentemente dal fatto che il nodo venga estratto o meno durante il corso non abbiamo approfondito forse avrete sentito parlare della cosiddetta proof of stake cioè della possibilità che invece di avere la probabilità di validare un blocco proporzionale al lavoro effettuato la probabilità di validare un blocco sia proporzionale alla quantità di cryptocurrency che uno possiede il problema principale della proof of stake è quello di come dice qualcuno nothing is a stake cioè quando le risorse che io consumo sono le risorse della rete transazionale bitcoin sono le risorse scusate della stessa rete di criptovalute e la stessa criptovaluta la cui sicurezza sto cercando di validare io posso avere dei perversi incentivi di teoria dei giochi cioè quando ciò che io dissipo non è esogeno al sistema che sto cercando di mettere in sicurezza posso fare dei giochini e fare in maniera che io dissipo ma dissipo condizionatamente a certi eventi posso sottoscrivere per esempio io posso validare 10 blocchi con 10 storie diverse in tutti i 10 blocchi quando una di quelle 10 storie prevale io otterrò la mia ricompensa ma magari nelle altre 9 storie che non prevalgono io ho fatto un double spending con cui mi sono portato a casa dei beni o dei servizi questa proof of payment non è non ha nulla a che vedere con la proof of stake perché qui non si spendono coin o share per validare un blocco qui nel sistema del dual asset ledger che traccia le share e i coin vengono dissipati bitcoin cioè un bene esogeno al dual asset ledger per garantirsi le probabilità di validare un blocco allora a questo punto diventa chiaro che perché ricompensiamo la validazione di un blocco con share perché i coin non vogliamo manipolare nel quantitativo e dovrebbe essere anche abbastanza intuitivo il fatto che se il prezzo di una share è sostanzialmente asset meno liability diviso la quantità di share beh questo prezzo dovrebbe essere un po' il prezzo di equilibrio che un agente economico razionale è disponibile a investire come proof of payment per ottenere una share allora immaginiamo di essere tutti i nodi di questo network ognuno di noi avrà fatto un certo pagamento in bitcoin alla reserve asset bank e proporzionalmente abbiamo probabilità di validare un blocco è chiaro che siccome la signorina qui davanti ha speso il 50% dei pagamenti che noi abbiamo fatto il 50% dei pagamenti verso la reserve asset bank sono stati effettuati da lei ha una probabilità su due di validare un blocco beh se non sarà il prossimo blocco sarà quello successivo quello successivo ancora a un certo punto verrà estratta e la sua proof of payment crolla a zero se nel frattempo una share però sale di valore magari l'incentivo a portarsi a casa la share uno dirà beh la signorina ha speso due bitcoin che rappresentano il 50% dei payment fatti ma se la share vale 4 bitcoin ma veramente vogliamo lasciarle una probabilità del 50% di portarsi a casa la share pagandola due bitcoin se magari la share vale 20 bitcoin no ecco che altri nodi faranno una proof of payment più alta no e quindi in qualche modo la proof of payment l'asta tramite proof of payment è un modo di stimare il prezzo della share in bitcoin all'effetto il byproduct di stimare il prezzo della share in bitcoin e soprattutto deve essere chiaro che gli shareholder esistenti non sono veramente diluiti dall'emissione di nuove share perché per l'emissione di ogni nuova share gli asset di riserva sono aumentati in una maniera diciamo così appropriata cioè chi ha vinto la share per la validazione di un blocco e probabilmente ha in media pagato quello che il mercato considera il livello giusto o che era il livello giusto qualche secondo qualche minuto qualche ora qualche giorno fa per una share di quel tipo d'accordo? conclusioni in questa lezione abbiamo capito che è possibile ingegnerizzare criptovalute di seconda generazione che chiamiamo IEC money che possono implementare un paradigma di stabilità monetaria basata su una politica monetaria su un'offerta monetaria elastica ma non discrezionale quindi di bitcoin salviamo la non discrezionalità ma siccome questa non discrezionalità combinata a una politica monetaria fissa mi dà una cripto commodity io voglio una politica monetaria elastica per ottenere una cripto currency e abbiamo immaginato di farlo su un dual asset ledger dove disaccoppiamo moneta transazionale e moneta speculativa sotto la forma di uno stable coin di una senior share abbiamo usato bitcoin come asset di riserva in una reserve asset bank decentralizzata in una distributed autonomous organization che funziona come una central bank e in cui il coin viene stabilizzato facendo assorbire i profitti e le perdite agli azionisti di signoraggio e abbiamo disegnato schematicamente una proof of payment che sfrutta l'esistenza di bitcoin come risorsa off chain rispetto al dual asset ledger come risorsa off chain che viene consumata per ricevere le rendite di signoraggio o meglio per partecipare tramite le missioni di azioni alle sorti del signoraggio allora abbiamo fatto uno scenario futuristico ma chi sa tanto che non sia molto più vicino al presente di quanto qualcuno voglia farci credere e allora forse vale la pena scorrere la bibliografia sicuramente partendo dal paper IEC money in cui oltre che nella prima metà dare una presentazione un po' datata ma tutto sommato decente di che cosa sia bitcoin nella seconda metà viene presentata appunto quella prima implementazione un po' semplicistica di ribasamento della quantità monetaria di quali dovrebbero essere i suoi benefici ma abbiamo discusso di quali sono i suoi difetti il difetto è che non disaccoppia la moneta transazionale dalla moneta speculativa da questo punto di vista il primo a immaginare di disaccoppiare questi effetti è stato Massimo Morini nel suo paper in cui disegna dei wallet di investimento e dei wallet di risparmio il paper è per certi aspetti un po' confuso ma ha quest'idea che bitcoin possa essere messo in un wallet di risparmio nel qual caso viene preservato dai ribasamenti della quantità oppure in un wallet di investimento nel qual caso partecipa a leva dei ribasamenti in positivo o in negativo il limite dell'approccio di Morini è che non si capisce bene perché in una fase di politica espansiva in cui la massa monetaria aumenta tutti andranno in un wallet di investimento e in una fase invece contrattiva della politica monetaria tutti andranno in un wallet di risparmio tant'è che lo stesso Morini per cercare un po' di mettere limiti a questa cosa che cosa fa alla fine mette un piccolo fee una tassa un balsello sui wallet di risparmio e ma siamo di nuovo alla heck money cioè la gente mette in un wallet di risparmio ma per colpa di questa tassa in un momento in cui la quantità monetaria si deve ridurre vede i suoi bitcoin ridursi in numero quindi alla fine non risolve assolutamente il problema il problema invece viene messo a fuoco molto bene da Robert Samms il quale per primo capisce che per poter avere una moneta speculativa una moneta transazionale è necessario avere due asset non fungibili fra di loro il limite di Morini è che l'asset che stia in un wallet di risparmio in un wallet di investimento è sempre un asset fungibile ecco che Robert Samms introduce quelle che lui chiamava signore bond da affiancare a uno stable coin che su suggerimento del sottoscritto poi ha chiamato signore shares il limite però dell'approccio del paper di Samms è che non si capisce bene quali siano gli incentivi economici affinché lui immagina uno schema in cui le share di signoraggio vengono distrutte in cambio delle emissioni di nuovi coin o i coin vengono distrutti in cambio delle emissioni di nuove share ma quale sia l'incentivo economico che fa sì che gli attori siano disponibili a rinunciare alle share per avere dei coin o a rinunciare ai coin per avere le share lui non lo chiarisce affatto lasciando quindi un punto straordinariamente delicato della meccanica degli incentivi economici di questo sistema aperto ma mettendo a fuoco l'idea che i due asset debbano essere non fungibili alcuni commenti in tal senso molto illuminanti sono commenti di Vitalik Buterin l'inventore di Ethereum che più volte ha parlato di Stable Cryptocurrency e invece quello che io vi ho disegnato in questa lezione è parte di un paper che ancora non è pubblico ma che appunto fa un passo avanti rispetto a Robert Samms ed aggiunge a questi due asset non fungibili l'idea di riserve economiche di un reserve asset che quindi crea i corretti incentivi economici per far sì che il giochino stia in piedi sostanzialmente gli azionisti investono del capitale in una intrapresa che è la creazione di una nuova moneta se creano una buona nuova moneta e questa è apprezzata dal mercato realizzano profitti come tutti gli imprenditori se il prodotto che fanno invece non piace non è ottimale realizzeranno delle perdite ma è il loro capitale di investimento messo lì a garanzia che allinea gli incentivi economici e soprattutto poi il mio contributo è quello di dettagliare come con una proof of payment sia possibile in qualche maniera non inflazionare o deflazionare il coin in maniera arbitraria ma ricompensando la validazione tramite l'emissione di nuove share come questo sia fatto in maniera corretta senza diluire arbitrariamente i precedenti shareholder e anzi come questo sia fatto con una simiglianza straordinaria con la proof of work ma senza aggiungere entropia all'universo senza distruggere altro corrente elettrica e hardware perché basta che lo faccia bitcoin per tutti sarà un live motive anche della prossima lezione vedere come il costo del mining di bitcoin rende possibili facili gratuite quasi tutta una serie di possibilità oggi abbiamo verificato le possibilità monetarie nella prossima lezione verificheremo quali sono le applicazioni non monetarie della blockchain e con questo vi ringrazio ci sono domande? prego grazie per questa idea che trovo molto interessante soprattutto nel sistema di questione del signor al il mio dubbio però riguarda il tipo di merce che potrebbe essere applicata a questo momento merchant? no di merce perché cioè ok lei si riferisce al reference basket cioè i componenti che sono nel reference basket sì no no attenzione poi mi dice se ho intuito bene la sua domanda quindi bisogna fare molta attenzione il coin è utilizzabile per acquistare qualsiasi cosa però il coin vuole mantenere la parità del potere d'acquisto rispetto a un paniere di riferimento quale sia la composizione di questo paniere di riferimento è completamente arbitrario ed è il cuore della competizione di mercato sulle monete cioè un imprenditore deve pensare qual è il paniere di riferimento è chiaro che un paniere di riferimento che sia significativo per un'economia è un paniere di riferimento che dà una moneta utile e quindi una moneta che sarà usata facciamo degli esempi voi sapete o forse non lo sapete ma ve lo dico io che quando nel 72 Nixon ha sostanzialmente rotto la convertibilità in oro quelli più furibondi erano gli sceicchi arabi del petrolio perché nella loro idea il barile era pagato in dollari ma perché il barile era pagato in oro i cosiddetti petrol dollari e a quel punto si erano infurrociti perché cosa se ne facevano di carta straccia beh un po' si sono adeguati ma oggi potrebbero emettere un oil coin cioè un coin che ha come paniere di riferimento un barile di petrolio cioè un coin che in ogni momento mi permette di acquistare un barile di petrolio che cosa succede? beh succede che se c'è una scoperta di energia verde che rende il petrolio sostanzialmente inutile il barile di petrolio crollerà di prezzo e il coin associato non farà altro che seguirlo cioè l'algoritmo la Reserve Asset Bank farà la politica monetaria tale per cui continuerà ad emettere coin per svalutare il coin in maniera che tracci il barile di petrolio e se il barile di petrolio va a zero il coin va a zero e pazienza quel coin non serve più la Reserve Asset Bank è fallita o va in liquidazione a seconda che gli asset di riserva coprissero meno le liabilities un altro esempio immaginiamo una Reserve Asset Bank che emetta un euro token cioè un coin che è convertibile uno a uno in euro beh che cosa succede? succede che siccome questo euro è istantaneamente trasferibile in maniera elettronica quindi è meglio dell'euro normale probabilmente la gente lo compra anche a 1.01 a 1.02 beh quindi la Reserve Asset Bank in camera riserve la Reserve Asset Bank è un'impresa commerciale che ha asset in bitcoin che cresce alla velocità con cui sta crescendo e ha liabilities che sono ingegnerizzate secondo quanto annunciato dai banchieri centrali a Francoforte avere il 2% di inflazione l'annua quindi è un business in cui gli asset si rivalutano e le liabilities si svalutano sembra una perfetta money machine è chiaro che uno potrebbe immaginare in realtà quello che io amo chiamare talvolta un IEC coin cioè un coin che traccia un paniere che è collegato a un paniere di riferimento che garantisce la stabilità del potere d'acquisto rispetto a un paniere di riferimento nobile cioè un paniere di riferimento significativo per l'economia internazionale un paniere di riferimento che potrebbe essere studiato da un panel di economisti ma potrebbe avere dentro una certa percentuale di metalli industriali una certa percentuale di grani una certa percentuale di petroli ma di nuovo torniamo insomma allo scenario aecchiano della concorrenza ognuno faccia il banchiere centrale ognuno si immagini qual è il paniere di riferimento che è utile per una certa economia ognuno emetta un coin indicizzato a quel paniere ma lo faccia mettendoci i suoi soldi se avrà ragione e avrà fatto un servizio utile all'umanità l'umanità lo premierà con dei profitti se avrà fatto un servizio inutile sbagliato o fraudolento all'umanità l'umanità lo premierà con delle perdite è il libero mercato delle monete sognato da Friedrich Von Hayek il problema è che in questo caso l'umanità è un'umanità che ha messo dei soldi quindi c'è viene quasi da pensare che in realtà queste monete promuovano una società molto stabile e fissa perché appunto quelli possono mettere più soldi dentro e controlla il paniere gli shareholder sono coloro che investono chiaramente è la loro moneta è garantita dalle loro risorse stabiliranno loro come va fatta e come va modificata nel tempo ma gli utenti sono i clienti della loro azienda se i clienti dell'azienda non sono contenti votano con i piedi vendono i coin incassano bitcoin e se ne vanno da un'altra parte a usare un'altra moneta e l'importante è che gli shareholder gli azionisti non possano fare nulla per bloccare questo cioè l'importante è che gli azionisti non possano a un certo punto prendere i bitcoin chiudere baracche burattine e scappare da qualche parte ma fin tanto che questo processo fraudolento non è fattibile e tecnicamente il coin sembra vendibile a 0,95 in cambio di riserve se il coin gestito dagli azionisti della banca centrale è un coin che non piace è un coin che verrà venduto liquidato e la gente trasporterà la sua ricchezza in bitcoin verso un'altra moneta prego voce alta non è abbastanza simile al concetto di colored coin no non lo è perché colored coin in realtà sfrutta il fatto che un bitcoin sia tracciato e tracciabile cioè che le transazioni siano monitorate e registrate sulla blockchain per dare a un certo transaction output un colore cioè come se noi prendessimo una banconota da 10 euro e io ci scrivessi sopra questa banconota da 10 euro è il titolo di possesso della mia automobile poi questa banconota da 10 euro gira vaga fa e chi possiede la banconota da 10 euro colorata da Ferdinando Ametrano possiede l'automobile di Ferdinando che era di Ferdinando Ametrano beh innanzitutto colored coin non ha nulla a riserva l'automobile di Ferdinando Ametrano dovete venire fuori nel mondo reale a vedere se esiste se ha i finestrini se ha le ruote se si accende si ha fatto la revisione non solo ma colored coin si basa sul fatto che bitcoin non è fungibile quindi che quella banconota da 10 euro è costantemente tracciabile quando si spera in un futuro non distante bitcoin diventasse fungibile all'improvviso toh tutte le banconote da 10 euro sono uguali qual è la banconota colorata che dava diritto a quindi in realtà colored coin usa un transaction output come veicolo per trasportare un'informazione metaprotocollare peraltro è un altro problema se il transaction output è a cui associato immaginiamolo il più piccolo un satoshi e se un satoshi domani vale quanto 10 automobili quello che succede è che l'informazione che quel satoshi dà diritto a un'automobile diventa totalmente trascurabile rispetto al valore del satoshi di per sé quindi no non direi proprio che questo schema monetario abbia a che fare con applicazione di color coin ci sono stati altri tentativi nella storia delle criptovalute primariamente Nubits Nubits era uno scam coin cioè un tentativo piuttosto sciocco di fare qualcosa che infatti aveva politiche monetarie convolute poi i creatori continuavano a leggere i miei paper a vedere i miei video volevano coinvolgermi a hack money ma insomma Nubits ha tradato più o meno la pari col dollaro per molto tempo ma per poi crollare inesorabilmente oggi ce n'è un altro che va per la maggiore che si chiama Tether USD Tether USD è un token che può essere scambiato e che la società emittente garantisce di essere sempre disponibile a cambiarlo uno a uno col dollaro ovviamente dovete fidarvi della società emittente in alcun modo avete la possibilità di verificare che la società emittente ha a collateral dei token in circolazione un certo amount di dollari o meglio ancora un certo amount di bitcoin che sarebbe immediatamente verificabile o che come proponevo io il collateral la garanzia di ogni coin sia 8, 9, 10 volte tanto 5 volte tanto l'amount di coin quindi di questi esperimenti ce ne sono tanti ovviamente potete immaginare questo stesso esperimento fatto da una banca centrale e sì la nostra stessa European Central Bank cosa potrebbe fare? potrebbe mettere dei coin dicendo che ogni euro token è collateralizzato da un euro di banca centrale europea a quel punto della banca centrale ci fidiamo perché non può defaultare sulla sua stessa moneta perché le può emettere a priori e chiaramente la banca centrale che cosa farebbe in questo caso? Le share di signoraggio non le emette perché le tiene tutte per sé è monopolista di questo coin quindi è chiaro che qui si rintracciano paradigmi da un lato già noti applicati a un mondo delle cripto dove le idee fondamentali sono due due o tre disaccoppiare moneta transazionale da moneta speculativa quindi dual asset ledger con due asset non fungibili usare bitcoin come asset di riserva questa è la seconda grande e importante caratteristica la terza proof of payment per evitare di contribuire all'entropia dell'universo ma sfruttare l'entropia utilizzata per rendere sicuro bitcoin per parassitare la sicurezza di questo network cancellare vi ringrazio per oggi e ci vediamo settimana prossima su applicazioni non monetarie della blockchain buon lavoro a tutti grazie a tutti